che è una capitale di questa provincia, anche se non tutti non lo sanno. Allora, a tutti voi un ringraziamento per essere qui questa sera, un appello alla mobilitazione straordinaria, un saluto affettuoso a voi e alle vostre famiglie e per il resto non abbiate dubbi, arriveremo alla meta, arriveremo alla meta. Grazie a tutti e un saluto affettuoso a noi c'era. Grazie. 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 Grazie.